Per il Ragusa arriva la prima trasferta stagionale in eccellenza e la possibilità di un nuovo step per verificare condizioni e progresse. Si gioca contro Laura sul neuro di Palazzola Crede, con gli azzurri che non possono permettersi distrazioni dopo il pari casalingo con la Rosolini. La notte del giorno riguarda però l'arrivo in casacca azzurra di Angelo Asce, centrocampista exigile e bagaglio di esperienza a seguito che potrà essere sicuramente utile nel settore nevralgico del campo. A Raciti mancherà domani Gennaro, squalificato, ma Asce potrebbe già esordire contro l'Avola. In promozione invece è turno casalingo per Marina e Frigentini, rispettivamente contro Meghiara Augusta e Carlentini. Nella formazione di Utro rientrano Pellegrini e Runza, mentre la società ha già annunciato l'arrivo del centrocampista Giuseppe Vitale, ex Sporting e Ovea. I Frigentini, dopo il brillante debutto a Belvedere, dove invece confermare, anche in casa, di voler fare sul serio, nonostante la fresca etichetta di matricola del girone. Infine il Modica, fuori casa a Floridia, dopo il rotondo 4 a 0 della giornata di esordio.